Sono Alejandro Granata e benvenuti al canale. In questo nuovo capitolo partiamo da Rio Tranquilo in direzione di Cochrane. Qua come potete vedere passiamo per la carretera australia lungo tutta una strada sterrata continua fino alla città di Cochrane dove dopo di seguito dovremo proseguire verso Caleta Tortell e O'Higgins Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.